Oggi abbiamo pubblicato i dati del nostro Travel Flash Report del 2015 che sono il risultato dell'analisi di più di un miliardo di prenotazioni che abbiamo potuto osservare sui siti dei nostri clienti in tutto il mondo. Le conclusioni principali, abbiamo visto che quest'anno le prenotazioni via dispositivi immobili sono arrivate al 23% in maniera globale e in Italia siamo all'incirca al 21%, quindi siamo nella media globale e nella media europea. Abbiamo anche osservato che rispetto agli altri paesi d'Europa l'Italia si difende bene, abbiamo più o meno gli stessi dati di Francia e Inghilterra, mentre la Germania per una volta sono un po' più indietro. Dunque per capire il comportamento degli utenti sui vari siti che sono i nostri clienti noi dobbiamo osservare tutte le pagine viste e il loro percorso sui diversi dispositivi che vengono usati. Questa mole di dati gigantesca, che corrisponde circa a un petabyte al giorno, viene ingerita dal nostro motore, viene analizzata e ci permette di personalizzare le pubblicità che poi forniamo all'utente in modo da acquisire per me di tutto gli spazi pubblicitari al prezzo giusto e in secondo luogo di presentare il prodotto o l'offerta di servizio che corrisponde esattamente al bisogno dell'utente. Dunque lavoriamo oggi con la maggior parte delle agenzie di viaggio online, le OTA, lavoriamo con la maggior parte dei comparatori in meta-search e anche con moltissime linee aeree, catene alberghiere e operatori turistici. Il nostro obiettivo è di mettere a disposizione la tecnologia di personalizzazione di pubblicità su tutti i canali possibili, quindi oggi già lavoriamo sul display desktop, tablet, mobile, web, in-app. Abbiamo un prodotto di email personalizzato che può anche essere usato per riproporre i servizi giusti a ciascun utente e in futuro lavoreremo su altri canali, native, video e qualunque canale che venga usato dagli utenti su cui si possa fare pubblicità.